Si intitola Ego ed è il nuovo album del grande Vincenzo, Incenso. Uscirà a partire dal 4 settembre, questo nuovissimo album, il cui autore ha detto Renato Zero mi ha spinto a far sentire la mia voce. Esce nei negozi di rischi delle piattaforme streaming più importanti in digital download. Questo nuovo album, un disco romantico, ma al tempo stesso di tipo politico, di stampo prettamente politico, dato da una profonda, da una grande, da una totale riflessione, da un pensiero completo da parte di questo famoso artista, che si va a mettere letteralmente a nudo, racconta la sua rabbia, il suo spaisamento a livello sociale, ma anche il cuore visione di amore in una voglia di smaterializzarsi in maniera completa e al tempo stesso. audace, non ha più identità, non ha più differenze, non ha più difficoltà a mettersi a nudo di Vincenzo, Incenso, portando in ascolto una voce aulica, suggestiva, sublime, perfetta come la sua. Dal 4 settembre è tutto da ascoltare, Ego, un album del grande Vincenzo, Incenso. Ciao a tutti cari utenti di YouTube, iscrivetevi e commentate al prossimo video.